Sono tre i veicoli coinvolti nell'incidente stradale di Via Dismano a Borgo Faina, che ha portato alla chiusura temporanea della strada all'altezza della Cadelliscio. Oltre alla Renault e alla Fia Punto che si sono scontrate frontalmente, è rimasta coinvolta anche una Peugeot Viper. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Ravenna. Il bilancio della collisione parla di quattro feriti. Il più grave è un bambino di tre anni, trasportato in elicottero con il codice di massimo urgenza al centro traumatologico dell'ospedale Bufalini di Cesena. A Cesena è stato trasportato anche il padre del bambino, ma con un codice di media gravità. Entrambi erano a bordo della Fiat Punto. La donna al volante della Renault è invece stata trasportata all'ospedale di Ravenna con un codice di media entità. Lievile ferite riportate dall'automobilista alla guida del Peugeot Viper. In supporto agli operatori del 118, arrivati sul posto con tre ambulanze e l'eli medica, è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco.